Il Comune di Cento, Avis, Ascom, Proloco, in collaborazione con Stefano Scardovi Piero Tecnia, Performances, Cassa di Risparmio di Cento, Fantazzi Petroli, Franciosi, Arcos e Gruppo Clima presentano Emotion Music Fire. Sistenga la morale luce, alzate gli occhi al cielo e lasciatevi trasportare le emozioni. Che lo spettacolo ha inizio. Ho preso il piano, devo per l'applaudimento. ha detto Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie.